Gli organi di Polizia Municipale nel territorio di competenza sono abilitati a compiere legittimamente la loro attività di accertamento istituzionale nell'ambito dell'espletamento dei servizi di Polizia Stradale senza che abbia rilevo alla circostanza relativa alla tipologia della strada che attraversa lo stesso e quindi ben possono effettuare accertamenti e contestazioni di violazioni di norme del Codice della Strada anche quando il tracciato su cui si verifica l'infrazione sia una strada statale al di fuori del centro abitato. Grazie